Benvenuti in un nuovo episodio di Minecraft Cuboid Outpost Luxury Edition. Oggi ci sono un paio di cosette che voglio fare, tra cui Mobfarm e Mobfarm praticamente. Ma prima vorrei cambiare l'uplied perché la refined è più semplice. Non c'è nessun altro motivo per cui dovresti preferire l'uplied rispetto alla refined. Quindi ci facciamo un ME controller, lo convertiamo. Prima ci dobbiamo fare Quartz Enriched Iron e poi possiamo convertirlo, no, perché ci serve l'Advanced Processor. Questi processor si fanno con il Printed Engineering come con l'uplied, però non si fanno dentro questi refined describer ma si cuociono e basta, che è davvero molto meglio. Quindi ci facciamo uno stack di questi e intanto ce ne craftiamo quattro che possiamo mettere a cuocere. In questo modo possiamo farci il controller della refined, possiamo farci il disk drive, poi ci serve fare anche dei raw basic e dei raw improved e facciamo anche questi. Poi ci facciamo i construction core, destruction core, una grid e una crafting grid e in realtà ne facciamo due di crafting grid. Poi ci serve lo storage, vediamo quanto silicon abbiamo, 20. Però ora stiamo tenendo Quartz dalla Solsen, quindi possiamo cuocere questo. E credo sia arrivato il momento di farci uno smelter decente, perché queste due fornaci per quanto veloci e gradate siano, non possono competere con un Advanced Smelting Factory o gradata al massimo. Questa è davvero molto più veloce e funziona anche in parallelo. Quindi ci facciamo un pochino di one case storage. Poi ho fatto un altro paio di basic processore, vediamo quanti 4k riusciamo a fare. 9 e 5. Quindi ci facciamo 4 da 16, uno da 64. E immagino che quello da 64 possa bastare. Ora, se stacco il cavo che c'è qui dietro. No, allora, se stacco il cavo poi non posso più vedere tutto il muro di Drawer. Vorrei prima fare dei cavi e poi un external storage da collegare. Ora possiamo staccare il cavo. E in teoria dovremmo smettere di vedere tutto quello dei Drawer e vedere solo quello che c'è qui dentro. Ottimo, non è moltissima roba. Quindi direi che possiamo iniziare ad estrarla e inserirla qui dentro. Ci sono metodi più veloci? Sì. Ne vale la pena? Potrebbe essere, ma secondo me no. Quindi sposto tutto a mano. E infatti c'è voluto davvero molto poco. E siamo al 14%, mentre queste erano quasi piene. Puttiamo via Lapied. È stato relativamente un piacere. Però la Refinet ci servirà meglio. Ora possiamo fare la cosa che non si deve mai fare. Cioè utilizzare l'excavator per i cavi del Lapied. Ma tanto non ci serve più. Quindi li sostituiremo con questi. Ecco qui l'external storage con una bella priorità di 1. E in realtà non dovrebbe essere cambiato nulla adesso. Abbiamo le stesse identiche cose rispetto a prima. Però se per esempio vogliamo autocraftare qualcosa, ci facciamo un crafter. Poi lo prediamo ad Iron. Poi ci servono un paio di questi. Ce ne facciamo 4 precisi che sono quelli necessari per upgradare tutti i crafter fino all'ultimo tier. O no. Gold, Diamond. No, ce ne servono altri due. Beh, altri due fatti. Però adesso ci manca la nederite. Quanta nederite abbiamo? Poi ci servirà una grid. Una pattern grid. Ci prendiamo i vari pattern. Questa la mettiamo qui a fianco. Abbiamo abbastanza nederite da poter fare 4 blocchi. Quindi possiamo credere il crafter a nederite. Ora, questo pattern grid e questo nederite crafter sono l'equivalente di pariche molecole all'assembler e pattern provider, un paio di CPU e comunque questo nederite crafter è più veloce di qualsiasi setup ottimizzato con l'applied. Quindi sì, questo è uno dei motivi principali per cui siamo sulla refined. Semplicità, ma soprattutto velocità. I primi pattern saranno delle cose basilari, tipo la legna e poi direi di fare dei drover upgrade. Passiamo direttamente a quelli di Smeraldo perché vorrei riempire tutto il muro di drover con questi. Ne abbiamo 32, possiamo farne 448, sì, e 102, ecco, parlavo di questo quando dicevo velocità. Una volta messi tutti gli upgrade, l'obiettivo sarà una mob farm, quindi mechanical dirt. Per farla abbiamo bisogno di liquid meat, quindi faremo prima una stanza in cui metteremo poi la mechanical dirt per iniziare a ottenerla, come si ottiene, dalla mob slaughter factory. Poi in tutto il tempo che è passato abbiamo fatto un po' di plastica. Inoltre ho messo questa instruzione cembre a craftare tutti gli upgrade che potevamo fare, quindi quelli di speed e quelli di processing, perché quelli di efficiency richiedono le blazerade e non ce li abbiamo. E li ho messi su tutti questi raid extractor che a quanto pare consumano troppa energia. E questo è un ottimo modo per riprovare il crafter e davvero la semplicità è mostruosa se confrontato all'applied. Se te ne metto un altro qui con l'uranium, via sale. Ok dai, te ne metto un altro giusto per sicurezza. Così dovresti andare. In ogni caso la plastica ora come ora non è un problema. Mob, slaughter factory, di farsi anche un add-on. Qui in realtà con la plastica e dato che le gas le otteniamo setacciando la source sand posso anche farmi un paio di mob imprisoment tool. Poi ho circondato quest'area con il dark glass, in questo modo è scuro. E infatti si può vedere che dei mob sono spawnati, vorrei vedere il range di questo. Ok in realtà ne basta uno in meno. In ogni caso i mob stanno scomparendo e ne stiamo ottenendo di queimit e anche pink slime. Perfetto, ci metto anche degli upgrade e il range add-on di tier 2 è perfetto. Nel mentre direi anche di farci degli reinforce da noi, proprio dare le tank. Add elite. Poi direi di utilizzare anche qui il destination filter. Quindi facciamo da questa parte estraiamo liquid meat. E se metto questa tank qui dovrebbe arrivare il pink slime. Questa è una gallina. Sai che è una gallina? Eh me la prendo. E qua. Quindi ci mettiamo liquid meat, poi ci mettiamo due rotten flash, un pt machine frame, due dirt e la lockiamo. In questo modo la recepia è bloccata, possiamo mettere tutto qui dentro e finché c'è liquid meat continuerà a craftare. La mechanical dirt. Poi qui abbiamo un bellissimo libro con un broken 3, il touch. Che direi di aggiungere al nostro paxel. Perfetto. Più che altro per il vetro, perché se non ce l'ho con me e lo rompo non si droppa. Mentre con 6x si. Ok. Direi di inizierà a sostituire questa dirt con della mechanical dirt. La cosa molto bella della mechanical dirt è che forma come una struttura multiblocco, quindi basta collegare un singolo blocco alle risorse. Se per esempio mettiamo questo qui e questo qui, poi gli mettiamo l'energia in estrazione e anche la liquid meat, tutte le varie mechanical dirt dovrebbero ricevere sia energia sia liquid meat. In modo uniforme. Se presemini a vedere quella, sì. Perfetto. Cercherei a precisare che ovviamente il rapporto è positivo, quindi i mob spawnati generano molta più liquid meat di quando non serve alla mechanical dirt per spawnarli. E adesso stanno spawnando molto velocemente, perché? Perché ci ho messo gli upgrade. Possono essere messi e soprattutto funzionano davvero molto bene. Come possiamo vedere è completamente pieno di fluid meat e qua si sta iniziando ad accumulare. Altra cosa che possiamo fare molto utile, ora che abbiamo un sacco di liquid meat, è un meat feeder che praticamente ci darà del cibo. Quindi se facciamo right click lo riempiamo, 52, ok. Poi se ce l'equipaggiamo nella bubble avremo sempre la barra di saturazione riempita a metà in teoria, almeno da quello che ricordo. Quindi non ci servirà più mangiare. Poi dato che adesso di plastica ne abbiamo abbastanza, direi di staccare questo e di mettere qui dentro l'aless hype per il simple machine frame. Due di plastica, due nether brick, due di ferro, una gold gear e un pretty machine frame. La blocchiamo e qua ci mettiamo tutti gli ingredienti per farne uno stack. Poi ci prendiamo il pink slime e lo mettiamo dentro a questa altra di solution chamber. Dove ci mettiamo anche il simple machine frame e questo dovrebbe essere l'aless hype per l'advanced machine frame. E qui ce ne mettiamo il necessario per fare uno stack. Anche se probabilmente non lo faremo dato che ci manca il pink slime e non abbiamo ancora il simple machine frame. Inoltre non vorrei combatterli tutti. In ogni caso ce ne facciamo un paio. E qua ne abbiamo uno. Che per il momento ci dovrebbe bastare. Perché? Perché ho intenzione di fare un mob crusher. Ci mancano i libri perché ci manca la pelle. Però la pelle la stiamo ottenendo da questo resource fisher. L'altro guardate i libri incantati che sta ottenendo. Questo è fantastico. Quindi ci facciamo due libri ed ecco qua. E il mob crusher. Quindi perché ho fatto questa farm praticamente di liquid meat e pink slime. Il liquid meat avrà utilizzato in questa altra stanza. Che c'è un mob crusher con la parade di lapis. Quindi la ricopre tutta. E una volta coperta e collegata dovrebbe iniziare a prendere anche questa parte meat ed energia. E dovrebbe iniziare a funzionare. Esatto. E qua iniziamo a ottenere ender per l'ottimo. Frecce. Bon. E un paio di altre cose. Ci sono altri due mob che non stiamo farmando all'interno di questa farm. Che mi piacerebbe molto farmare. Eh ce ne sarà ben con un terzo che sarebbe il wither. Però non è proprio un mob. Cioè sì è un mob però è un boss. In ogni caso ci sono altri due mob normali che mi piacerebbe farmare. Che sono i blades e i wither skeleton. Inizialmente per i wither skeleton avevo intenzione di fare un altro ripiano di witch water. Lì sopra con le vector plate. Che portavano tutti i mob all'interno di una linea di witch water. Che convertisse gli scheletri in wither skeleton. Però ci ho ripensato. Quindi ho fatto un'altra area. Questa è un pochino più grande. In cui far spawnare mob che voglio che spawnino. Ci abbiamo collegato l'energia. Questo mob crusher che uccideremo il mob otterà anche lui dell'essenza. Quindi la metterà in questa tank. E insieme all'essenza dell'altro mob crusher la porterà qui sotto. Dove qui metteremo il mob duplicator. Quindi qui abbiamo 10 advanced machine frame. Sapevo che sarebbero serviti subito. Perché per fare mob duplicator servono. E un altro mob che mi piacerebbe spawnare, ora che ci ho pensato, è lo slime. Però intanto ce ne facciamo due. Quindi uno e due. Questi ce li mettiamo qui sotto. E dovrebbero in automatico prendere sia esperienza sia energia. Non avevo messo questo in estrazione. Ora state prendendo essence? Sì, ok. Perfetto. Ora, solo per provare. Intanto che ci abbiamo una chicken all'interno di un mobile brisomant tool. Se la mettiamo qua dovrebbe spawnare lì. Ci ho messo un range addon di tier 2. Giusto per aumentare leggermente il raggio. E che abbiamo tenuto a federe le low chicken. Ottimo. Ci facciamo un po' di porcelain clay. Ci facciamo un paio di porcelain doll. E ci facciamo un singolo blazing doll. Poi qui abbiamo un barrio pieno di lava. E se ci mettiamo il blazing doll dovrebbe bloccarsi e spawnare un blaze. Ed eccolo qua. Catturato. Poi con la witch water possiamo metterla su un qualsiasi skeleton. Convertirlo in with a skeleton e catturarlo. Quindi se li mettiamo qui dentro. Dovrebbero iniziare a spawnare. E noi dobbiamo iniziare a ottenere loot. Skull e blaze rod. Quindi. Ci abbiamo il mob crusher che estrae nearest first. Prima distrugge necrotipone e spade di pietra. E poi ci butta tutto loot qui. Ho deciso di tenerne un po'. Però non dovrebbero aumentare. Anche il qual non ci serve. Quindi qui dovremmo tenere solo with a skeleton skull. Blaze rod e se decidiamo di spawnare qualcos'altro. Ora grazie alle mob farm abbiamo enderpearl. Blaze rod. E ci possiamo fare gli ender chest. Ora deve rifarmi un jetpack. Sembra non c'entrare nulla ma vi farò vedere che sarà molto... Allora ci facciamo dare una mano dall'autocrafting. E dopo aver messo tutto in autocrafting ho anche tolto exact per il crafting dei vari jetpack. Però non possiamo farli perché non riconosce la idea precedente. Ora vi proveremo una nuova funzionalità della Refinite che dovrebbe essere l'autocraft dalla J. Quindi se per esempio vogliamo farci un jetpack e facciamo control click dovrebbe autocraftare ciò che ci serve. Sì. Quindi se faccio così e faccio control click dovrebbe autocraftare quello che ci serve di nuovo. E posso craftarlo io. Fantastico. Ok. Lo facciamo così. Gold, diamond ed emerald. Ho fatto l'emerald che è l'ultimo tier giusto per... Non credo neanche. Abbiamo talmente tante enderpe per poterlo riempire. E direi di arrivare a... Ah così dovrebbe andar bene. L'ho già attivato. E adesso possiamo volare. Perfetto. Poi ci facciamo un bel walk drawer 2x2. Ci mettiamo le skull e le blazelode. Lo blocchiamo. Il motivo per che ho fatto il jetpack è questo. Poter volare qua. Perfetto. Quindi questi drawer che saranno di walk saranno quelli della mob farm. Colleghiamo tutte e due le ceste. Quindi quella dei mob che esponiamo e quella della mob farm generica al muro di drawer principale. E poi ci aggiungiamo i drawer. Quindi 1, 2 e 3. Alcune cose non serve aggiungerle. Per esempio la redstone e la glowstone droppata dalle strighe ce le abbiamo già. Quindi così dovrebbe bastare. Ci mettiamo un upgrade giusto per... E ci siamo. Poi ho giustamente notato che questo disc si è riempito. Quindi direi di fare un disc manipulator. E di vedere se riusciamo a svuotare qualcosa nel muro di drawer. Sì. Ho come l'impressione che questo sia... Stavo per dire che questo... Pensavo che fosse un buggy. Invece no. Mi ero stufato di non avere walk plank. Quindi ne avevo autocraftate tantine. Forse troppe. Quindi si è impallato. E adesso se metto un bello storage qua dovrebbe iniziare a metterle qui. Non appena lo connego. Questo modo se lo rimetto qua dovrebbe mettere tutte le walk plank nel drawer. E dovrebbe continuare a craftarle e metterle nel drawer. Ora vorrei incantarmi un pixel anche con efficiency. Perché è davvero molto lento. Mi sta accorgendo che ho davvero tanti livelli. Vorrei vedere se posso ottenerli tutti e prendermi solo quelli che mi servono per mettere efficiency. Ok. Quindi ci mettiamo sia efficiency sia manning. Perché no? E ora che abbiamo le blaze rod possiamo anche fare altri upgrade. Quindi qua sblocchiamo. Due blaze rod, due diamond gear, due di redstone e due glass pane. Lo blocchiamo e ci mettiamo tutto qui dentro. Perfetto. L'essence sta salendo. Qua abbiamo l'add-on nel range di due. E nelle prime due file qui sotto ho messo tutti gli upgrade. Quindi speed, processing ed efficiency. In questo modo sponiamo mob più velocemente e li uccidiamo più rapidamente. Otteniamo essence più velocemente. Quindi possiamo tenere quelli sempre attivi. E magari aggiungercene anche un po' in futuro. Ora aggiungere dei trashcan perché non sa che le offrono tutto il set di oro. Non ci sta qui dentro insieme a quelle di pelle. In ogni caso lo vedremo. Le mob farm sono completamente finite e automatizzate. Soprattutto passive. Si è disattivata la refined. Noi stiamo utilizzando 173 RF e qua sopra 66.18. Stiamo ancora utilizzando il win generator che c'era da inizio gioco in pratica. Per il momento dovrei utilizzare un generatore. E per esempio lo mettiamo qui. E questo dovrebbe sistemare tutto. Perfetto. E inoltre qua ci abbiamo del pink slime adesso che ci penso. Cioè in teoria la Stonewall Factory la fai per il pink slime. Non per la meat. Però questo pacchetto è strano. E l'abbiamo fatto così. Quindi ci facciamo un paio di glass pane. E qui se togliamo tutto possiamo metterci un glass pane. Bloccare la recycle. Metterci multi glass pane. E poi mettere una tank qui sopra. Allora diciamo di prendere da sopra. E dovrebbe farmare pink slime a non finire finché non si riempie di acqua. Queste pink slime oltre ad utilizzarle come slime ball. Perché per l'altro noi le slime ball non ce le abbiamo. Possono essere utilizzate per fare una material Stonewall Factory. Che direi di fare. Questa può fare vari output. E a noi di questi ce ne interessa solo uno che è il silicone. Quindi qui sotto ci mettiamo una Stonewall Factory. Gli diamo un secchiano di lava. Uno di acqua. Gli mettiamo tutti gli upgrade. Gli mettiamo un generatore ma non gli diamo ancora l'energia. Perché noi vogliamo tre picconi e poi una barriera. Ora gli diamo l'energia. E lui da solo dovrebbe iniziare a produrre silicone. Gli diciamo di buttarlo da sopra. E questo è silicone automatizzato. Ottimo. Ora mi piacerebbe fare delle tender tank. Però non abbiamo dei colori. E per farlo ci servono dei fiori. Quindi direi di setacciare un po' di dirt compressa. Per ottenere dei grass seed. Ed eccoli qua. Ce li mettiamo qui davanti. Aspettiamo che crescano. Poi me ne basta ottenere uno per ciascuno. E possiamo raddoppiare all'interno del Phytogenic Insulator. Con il Phytogrow. E probabilmente forse possiamo anche upgradeare l'Integral Component. Ci manca solo il Signalum. Che è Silver, Copper e Redstone. E possiamo farlo. Quindi ci facciamo le Gear. E poi possiamo upgradeare questo a Reinforced. Reinforced. Enderium quanto lontano è? Illumium mi sembra di averlo già. L'Ardened Glass possiamo direttamente farlo addirittura. Beh, facciamolo. E l'Enderium non possiamo direttamente farlo. Diamante polverizzato. Lead e Ender Pearl. C'abbiamo la Diamond Dust. E qui li cambiamo. Gli mettiamo Lead e Ender Pearl. Ce ne ha dati 8. Quindi possiamo upgradearli tutti e due. Al Tier Resonant. Che è l'ultimo. Ok, quindi così dovremmo avere giusto un po' di colorante. Io volevo solo fare del Pink. Non farò l'iClick con un colorante sulla Crafting Grid. Ho imparato dai miei errori. E anche se molto spesso mi li dimentico. Quindi ci convertiamo 3. Facciamone 3. Perché no? E tutte e 3 di Pink. Questo sarà l'Ender Tank per il Pink Slime. Ovviamente. E la mettiamo qui sopra in Output. Qui ho fatto una farm di Slime. L'unico altro materiale che non stiamo farmando e di cui ne avevo necessità. E ne avevo anche poco. Ho staccato 3 barrel dalla produzione di sabbia. E li ho collegati alla produzione di bombier. Dice il Drawer. Quindi Witchwater più bombier. Ci darà il blocco di Slime. Che verrà estratto e inserito all'interno del muro dei Drawer. Come la Soul Sand. Solo che al posto di entrare nel Drawer della Soul Sand. Entrerà in questo compacting Drawer con le Slime Ball. È bloccato e non ha dei Void Upgrade. Quindi una volta che si sarà riempito. Ce ne vorrà. Quei barrel smetteranno di funzionare. E inizieremo ad accumulare bombierlo in ogni caso. Ora che stiamo formando Blazerod. Direi di farci uno stack di Emerald to Obsidian Furnace. In questo modo offriamo tutte le fornaci che ci sono qui. A Ossidiana. E a quanto pare una volta fatto perdono le loro impostazioni. No funzionano ancora ma non si vede. Strano. E poi Ossidiana a nederite. Però non ho tantissima nederite. E quella che ho la sto facendo a mano. Direi che è arrivato il momento di automatizzare anche la nederite. Ok ci siamo. Mi ricordavo un upgrade per il Sequential Fabricator. In modo da non fargli riempire tutti gli item dello stesso tipo. Ma a quanto pare non c'è. Oppure non se non riuscite a trovarlo. So che non è l'Item Filter. E in ogni caso qui abbiamo un Drawer. Con della nederite Scrap e l'Ossidiana. Perché per esempio l'Ossidiana è uno storage downgrade. Perché se per caso utilizziamo tutta la nederite Scrap di quel Drawer Wall. Questa farm smette di funzionare. Sarebbe strano perché comunque ci sarebbe l'Ancing Debris qui. E poi di nuovo le nederite Scrap che vengono prodotte qua. Ma per sicurezza ci teniamo uno stack di nederite Scrap separato dal sistema. In modo tale che potrà sempre craftarla. Quindi crafta l'Ancing Debris. Viene buttato dentro a questo Elite Crushing Factory. Poi viene buttata dentro a questo Elite Riching Factory. E ci abbiamo la nederite Scrap che viene estratta e reinserita all'interno del Drawer. Wall principale. E qua ci abbiamo nederite Scrap infinita. Quindi ci facciamo un po' di magma cream. Tipo 3 stack. Poi ci facciamo della nederite. Tipo 4 stack. Quasi. Ma abbiamo finito l'oro. Cos? Ah no ok abbiamo finito la nederite. Ok si si va benissimo. Tanto l'ho messo a farmare. E adesso possiamo farci un paio di questi. E oppure dare tutte queste fornaci a nederite. Non so perché si girano alcune. Sto notando che il buon meal sta diminuendo. Era a 1300. Adesso è a 1200. Direi di fare uno Spore Recreator. Quindi ci servono dei Mushroom. Che non so come ottenere. Come li otteniamo i Mushroom? Allora se mettiamo del Lange Spore all'interno della Witchwater. Questo si è buggato. Ci dà un blocco di Mushroom. E se lo rompiamo ha una possibilità di darci del Mushroom? No. Proviamo di nuovo. Questo è l'ultimo. No. Bisogna rimettersi a setacciare la Silica. Perché è quella che ci può dare il Lange Spore. Eccolo qua. Riproviamo. Di nuovo. Ancora una volta. Un'altra. Sì finalmente. Quindi possiamo farlo crescere. E una volta rotto ce ne daranno di più. Perfetto. Quindi possiamo farci lo Spore Recreator. E ci siamo. Spore Recreator. To add to Singularity. Ci abbiamo l'estrazione. Oh no. È vero potrebbe anche trasformarla in dirt. Ah e questo come si previene? In realtà sembra che si gestisca da solo. Vedrò se li succede. Oh no. In pratica ogni tanto qui farmeremo della Dirt. E ogni tanto verrà messa l'acqua e farà le Slime Ball. Non ho ben capito da che cosa dipende. Però ci ho dato tutti gli aprieti ed è talmente veloce. Che anche se ne spreca un po' per la Dirt non è un problema. Il problema sarebbe la velocità delle Slime Ball. Però ricordiamoci che sta facendo cubi di slime che valgono 9. E adesso ne abbiamo 5.200. Quindi è un'ottima farm. Ottima. È una farm discreta. Ora vorrei fare un test con l'autocrafting. Questi concritti richiedono dell'acqua. Se io provo a mettergli la Recipe. Ho dei secchi di acqua? No. Ma posso autocraftarli? No. Qui ci ho messo un external storage. Settato su liquidi per il sink. Quindi in teoria dovrebbe vedere parecchia acqua. Quindi vorrei provare a farmi una Fluid Grid. Forse da qua possiamo vedere l'acqua. E possiamo prelevare dei secchielli. Beh, se accetta i secchielli per me va quasi bene. Facciamo un po' di Concrete Tile. Poi dato che dei lingotti di uranio ne produciamo tanti. Ma non so bene che farmene. Se non dei singulari tipo produrre energia. Anche se al prossimo episodio ogrieremo anche quello. Sto facendo un po' di Dye. Black e Gray. Non farò right click. Quindi ci facciamo un altro po' di Gray. E vorrei convertire queste Sheet Metal in Gray Sheet Metal. Ottimo. E poi farci delle Slab. Perfetto. E queste dovrebbero essere il soffitto. Dato che ci siamo continuiamo con lo stile del nostro Outpost. Questo dovrebbe essere più o meno il risultato finale. Cercherò un modo per coprire i cavi perché non mi piacciono. E questo cavo in mezzo non si può vedere. Quindi Network Receiver Network Transmitter. Network Card. Ci mettiamo il transmitter per esempio qui. Il receiver lo mettiamo qui sotto. Facciamo il link. E poi lo colleghiamo qua. Quanto consuma? 64 RF per tipo. Ok. Possiamo togliere tutto il collegamento dei cavi. E i cavi sono stati coperti con le vertical slab della Quark. Non mi sembra male. E in ogni caso direi che con questo episodio si possa concludere.